Ok ragazzi, semifinali Argentina-Giappone Formazioni ufficiali, partiamo dal Giappone Il Giappone si schiera in campo con il 4-4-2 In porta Kawashima in difesa Sakai, Yoshida, Tomiyasu, Nagatomo A centro campo Ito, Shibasaki, Endo e Maeda E in attacco Makino e il capitano Minamino Invece l'Argentina scende in campo con un 4-3-3 In porta Martinez, difesa Montiel, Martinez, il capitano Otamendi e Hakuna Centro campo Rodriguez, Paredes, De Paul E in attacco Di Bala, l'infortunato Correa E punta centrale, non Messi, ma il Toro, Lautaro, Martinez Vabbè che poi Messi dovrebbe giocare dove è Correa o dove è Di Bala Perché il vero tridente credo che sia Messi, Lautaro e Di Maria Ma la vera domanda è Messi è in panchina o non c'è proprio? Sei infortunato, noi non lo sappiamo, l'Argentina non l'abbiamo seguita Vabbè lo scopriremo solo giocando al Lusail Stadium Pronto? Sì E allora vai Dentro o fuori? Maeda 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 In area! Calcio d'angolo Minamino Dalla bandierina Ho fatto anche troppo forte! Ma andava bene Stava per segnare Endo Giappone Vicino al vantaggio Almeno vedi Eh no E' uscito di un bel po' Di Bala Kawashima Attenzione Ancora Kawashima Attenzione No 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 Gol Correa! Correa! Lo sapevo! Lo sapevo! Non è giusto! Non è giusto! Gioca uno che non dovrebbe essere al mondiale Non è al mondiale! Non è giusto! Grande! Shibazaki! Shibazaki! Machino! Machino! Uno a uno! Machino! Shibazaki! 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 Shibazaa! No! Marca miseria Accia di una ladra! Ti ho messo una palla d'oro! E ti lamenti con me? Lamenti con lui! No perché sei tu che lo controlli! Eh sì vabbò! Ito! Ito! Ito ancora si ferma! Ito! 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 Martinez! Blocca! De Paul! Kawashima! Ito! Dai! Dai! Grande Ito! Vai! Vai Ito! Vai! Ito! 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 Ma no! Ma no! Ma no! Ito! Hai fatto tutto bene! Hai fatto un tiro del me- Il gioco? Dai vabbè! Era avanti! Buono! Buono! No! 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 Dai! Questo non è rigore! Dai! Vabbè dai! Pure! Ci mancava anche il rigore! è entrato adesso messi! Eh! 3 a 1! Ciao! Ito! Ito! Sì! Va bene! All'ultimo! Va bene dai! Ah! Vai! Grande! 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 Grande FIFA! Grande FIFA! Grande FIFA! Gran bel gioco! Gran bel gioco! Onesto! Molto onesto! Per niente il computer non è per niente favorito! No no! Ma complimenti! 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 Complimenti a chi fa sto gioco tutti gli anni! Complimenti! Sempre le solite cose bisogna vedere! Complimenti! Innanzitutto avete Correa non ci doveva neanche essere uno! Ma va bene! Comunque veramente complimenti a chi ogni anno fa questo gioco che è sempre puntualmente quando tu sei vicino a fare qualcosa in cui ti fai il mazzo puntualmente il computer diventa e ho finito di parlare! Vabbè! Formazioni ufficiali! Partiamo dalla Croazia! Vai! Allora la Croazia scende in campo con un 4-1-4-1 in porta Livakovic difesa Juranovic Vida Sutalo e Barisic centrocampo Brozovic Modric Meier Kovacic il capitano Perisic e punta centrale Livaja L'ex Inter Ah sì Invece il Giappone si schiera con la solita formazione 4-4-2 Kawashima tra i pali in difesa Sakai Yoshida Tomiyasu e Nagatomo a centrocampo Ito Shibazaki Endo e Maeda in attacco Makino e il capitano Minamino al Isle Bait Stadium Giappone Croazia si scende in campo finale terzo quarto posto Minamino prova il tiro Murato calcio di rigore ma qui in molti hanno calcio fammelo vedere no ma qui c'è qualcosa che non va a vedere no non c'è niente no vabbè facciamo sto rigore e facciamola finita tanto ormai Minamino eh pur ha parato fa un bagno Ito Ito si ferma serve Minamino 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 ando Shibazaki 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 Makino va bene ok va bene va bene va bene va bene Ito 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 bella Makino Minamino Minamino e Ale ecco ecco il primo tiro il primo tiro creato in vantaggio perfetto perfetto Ale vai perfetto 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 non è fuorigioco eh no 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 guarda lì che assist che ha fatto dai vabbè c'è non è neanche un fuorigioco questi c'è questi qui non c'erano neanche un fuorigioco si dai fa il 4 a 0 godo che non fa eh ma lo fa lo fa lo fa e 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 lo fa dai torna indietro torna indietro va tanto ormai si gode la Croazia si si infatti gode la Croazia ma tienitela lì tanto ormai vai grande 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 gioco grandissimo gioco si 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 ha fatto pure tripletta va bene dai grande gioco grande gioco lì la palla non esce ovviamente dai ma non pigliate per il cuo la gente va che tutti gli anni miglioriamo miglioriamo ma che volete migliorare che sono sempre i soliti quattro errori ma dai ma dai scusate ragazzi per lo sfogo però veramente non è possibile che tutti gli anni tutti gli anni ci sono sempre i soliti stessi errori sempre a favore del computer perché il computer a un momento non lo passi più non riesci più a segnare vabbè ok ragazzi speriamo che la miniserie sul mondiale vi sia piaciuta se è così lasciate un like lasciate un commento qua sotto se non siete ancora iscritti iscrivetevi e col fatto che abbiamo finito le due miniserie sul mondiale adesso si riparte con la carriera allenatore con il Cervia ciao ciao ragazzi con la carriera